Si è svolto a Portoferraio un primo incontro con i rappresentanti del raggruppamento temporaneo di professionisti, la società incaricata della progettazione definitiva della nuova scuola superiore. Obiettivo dell'incontro era avviare l'iter tecnico amministrativo previsto dal protocollo di intesa sottoscritto a suo tempo dalla provincia e dal comune e a tal fine presenti hanno successivamente effettuato un sopralluogo nell'area di piazzale Eris finalizzata ad una verifica propedeutica alla progettazione. Quello della nuova scuola è un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana, sottolinea il consigliere Solforetti, in quanto consentirà il recupero di aree inutilizzate e degradate e di consegnare alla città una struttura polivalente ecosostenibile e di alto pregio, aperta alla comunità. In questo senso, con la presiderando, abbiamo sottolineato la necessità di garantire una progettazione che tenga conto delle esigenze di una didattica moderna e multidisciplinare, con spazi flessibili che possano modificarsi a seconda delle esigenze.